La paura del contagio non ferma le attività illegali nel Vibonese, tanto più i serrati controlli da parte delle forze dell'ordine che pattugliano le strade e le piazze del territorio scoraggiano chi trae i propri guadagni dal crimine. E così capita che due giovani di Rombiolo, probabilmente per rifornire i loro clienti bloccati a casa oppure per fare scorta per loro stessi, abbiano deciso di uscire a bordo dell'auto nella speranza che nessuno li fermasse e soprattutto che nessuno dubitasse della loro comprovata urgenza di andare in giro. Ma così non è stato, infatti i carabinieri della stazione di Filandari, impegnati in una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme governative in materia di Covid-19, li hanno fermati. Si tratta di un giovane di 27 anni e di un altro di 21 che erano in giro su una lancia musa. Alle domande incalzanti dei militari non hanno saputo dare risposte convincenti, tanto da sospettire i carabinieri che hanno proceduto ad una perquisizione sia personale che all'interno dell'auto, dove hanno trovato due involucri di carta stagnola contenenti rispettivamente due grammi e mezzo e cinque grammi di marijuana e un terzo con quasi un grammo di cocaina. Per entrambi è scatata la segnalazione alla prefettura di Viva Valenza e sono stati anche dei feriti in stato di libertà perché in assenza di comprovate ragioni dettate dallo stato di necessità sanitario di lavoro si muovevano liberamente in barba alle attuali disposizioni governative.